Direttore, siamo pronti a chiudere gli AB a settembre? Vediamo quello che deciderà il commissario Figliuolo. Mi sembra di capire che questa è un po' la strategia e la vaccinazione sarà destinata alle farmacie, ai medici di medicina generale, magari anche alle aziende, al Siesp per le vaccinazioni dei sanitari. Mi sembra che la strategia, d'altra parte, gli AB non possano essere aperti, si ne die. Quindi adesso pensiamo a raggiungere l'obiettivo di settembre dell'immunità di Greggio e poi vedremo come vi da farsi. Direttore, una buona notizia, da qualche giorno l'ASA di Terramo è diventata autonoma di fatto nella gestione dei tamponi molecolari. Sì, abbiamo realizzato e abbliato il laboratorio dedicato all'esame dei tamponi molecolari e da qualche giorno siamo autonomi nell'espletamento di tutte le attività inerenti alla lettura di questi tamponi. Riusciamo a gestirli da soli. Ci rivolgiamo solo all'IZS, soltanto per il controllo delle varianti, perché le nostre strumentazioni non consentono questo. Le attività dell'ospedale Mazzini di Terramo possono, come dire, riprendere con una quotidianità diversa ora che, insomma, si è ridotto sensibilmente il numero delle persone ricoverate. Sono solo 21 nell'ospedale. Ecco, sono solo 21, di cui due in rianimazione, però abbiamo chiuso anche l'animazione Covid perché queste persone sono state trasportate in rianimazione generale, visto che lì abbiamo due posti disponibili per il Covid, onde evitare di recuperare personale da dedicare alla ripresa dell'attività chirurgica. Oggi nella nostra provincia, per quanto concerne il Covid, sono tutti ricoverati al terzo lotto di Terramo, quindi sia Atri che Giulianova hanno chiuso i propri reparti Covid e quindi man mano riprenderemo a pieno tutte le attività ospedaliere per tornare a ritmi, anzi aumentare i ritmi anche quelli del pre-Covid. La direttore, chi miglia di lei può fare un appello a tutti i cittadini e un bel esempio hanno dato i maturanti prenotandosi in queste ore. Bisogna vaccinarsi? Io invito i maturanti, ma i giovani ci credono di più. Vedo che ci sono dei comportamenti un po' particolari nei 60 anni. Io invito tutti perché il vaccino è l'arma per convincere questo virus. Ne dobbiamo essere coscienti di questo perché è veramente l'unica arma. Noi stiamo vedendo che attualmente vengono ricoverate persone che vanno dai 30 ai 60 anni. Gli ultrottantenni, che sono tutti quasi vaccinati, non vengono più ricoverati. Questo che significa che il vaccino funziona. Quindi tutti, è un nostro obbligo morale farlo.